Bene, oggi facciamo un po' di esercizi sulle espressioni con numeri razionali, così facciamo un po' di allenamento. Cominciamo per esempio da questo, esercizio 434 a pagina 113. Allora, lo leggo. Vediamo, controllo ancora una volta che si è copiato bene. Allora qui, se osservate, potremmo in teoria usare le proprietà delle potenze, ma i segni sono diversi. Il numero è lo stesso, un terzo è un terzo, ma i due segni sono diversi. Quindi per poter usare le proprietà delle potenze devo avere lo stesso segno. Vi ricordate che ho A alla N per A alla M, questo è A alla M più N. Però in questo caso i numeri devono essere esattamente identici, non devono avere nessuna differenza, neanche di segno. Come risolviamo questo questo fatto? E poi la stessa cosa si ripresenta dopo, anche nella seconda moltiplicazione. Per far questo, per fare in modo che la base sia la stessa, possiamo ragionare in questo modo. Se ho un numero negativo, quindi meno un terzo, con un esponente dispari, Allora, questo è dispari, allora il segno meno sopravvive. Se moltiplico meno un terzo per se stesso, numero dispari di volte, il risultato è negativo. Quindi posso portare il meno fuori della potenza. Quindi meno un terzo alla quinta, ha lo stesso valore di meno, parentesi tonda, un terzo alla quinta. Mentre se l'esponente fosse pari, meno un terzo alla quarta, ok? Quindi se questo è pari, questo significa, meno un terzo per meno un terzo per meno un terzo, Allora, ogni coppia di meni fa un più, e quindi più per più fa più. Per cui che se l'esponente è pari, ok, il risultato della potenza è identico a quello che avrei se fosse il segno più. Ok, quindi questo segno posso cambiarlo in più senza alterare il risultato dell'operazione, il valore dell'operazione. Quindi, tornando alla nostra espressione che adesso copio, per non doverla riscrivere del tutto, Vediamo se ce la faccio. Allora, questa possiamo riscriverla come... Eccola qua, questi... Ok, come? Ripeto. Questo meno lo tiriamo fuori della parentesi, quindi ho quadra meno tonda, un terzo alla quinta, per tonda, un terzo alla nonna, qui il meno rimane perché l'esponente è dispari, diviso quadra, tonda, un terzo alla quarta, per... Qui questo meno un terzo, il meno, posso non scriverlo, cioè posso cambiarlo in più perché l'esponente 8 è pari. Quindi qui ci rimane meno un terzo alla 5 più 9 che fa 14, diviso un terzo alla 4 più 8 che fa 12. Qui, essendo una divisione, devo riscrivere la differenza degli esponenti, quindi il meno rimane, un terzo alla 14 meno 12 che fa 2, quindi meno un nono. Attenzione, questo segno, ok, non viene alterato dal 2 perché il segno è fuori della parentesi. Questo segno rimane, questo segno rimane perché non è dentro la parentesi. Se avessi avuto meno un terzo alla seconda, questo avrebbe fatto più un nono, ma se il meno è fuori, il meno rimane. Nota bene, ok? Non è la stessa cosa avere, faccio l'esempio, meno 3 alla seconda è meno 3 per meno 3, cioè più 9. Se invece ho meno più 3 alla seconda, questo significa meno più 3 per più 3 che fa meno 9. Se è fuori della parentesi, il segno rimane. Attenzione. Ok, questa era la parte A dell'esercizio, c'è una parte B, che è questa. Se non ci sono domande, continua. La seconda parte era questa, parentesi quadra, tonda, meno un quarto alla quinta, chiuso quadra alla terza, diviso quadra, tonda, un quarto alla quarta, per meno un quarto alla nona, chiuso quadra, quale qui abbiamo l'esponente dispari nella prima potenza, quindi possiamo portare il meno fuori della parentesi, quindi abbiamo meno un quarto alla quinta, qui abbiamo ancora un esponente dispari, poi vedremo come fare il prodotto, diviso tonda, qui abbiamo il meno un quarto alla nona, quindi anche qui porto l'esponente fuori, lo posso mettere davanti, meno, scusate, più, ok, quindi un quarto alla quarta, per un quarto alla nona, questo meno, ripeto, l'ho messo fuori davanti, ok, posso metterlo davanti a tutto, e quindi otteniamo, qui anche ho un esponente dispari, quindi questo meno rimane, lo porto fuori della parentesi, quindi ho meno un quarto alla cinque per tre, che fa quindici, poi ho diviso meno un quarto alla quattro più nove, che fa tredici, qui abbiamo meno diviso meno, che fa più, e poi abbiamo quindi uno, quindi più, un quarto alla quindicesima, diviso un quarto alla tredicesima, cioè più un quarto alla quindici meno tredici, che fa due, quindi più uno fratto sedici, ci sono domande? Troppo, e quindi questi semplificano i meno, perché sono fuori dalla parentesi, esattamente, mentre se erano dentro non si semplificavano, no, è meglio che siano fuori, per evitare confusioni, ok, ok, perché così è chiaro, cosa, qual è il segno di che cosa, un'altra domanda, ma quindi se ha l'esponente dispari, in meno si può mettere fuori, esattamente, si trasforma direttamente in più, esattamente, lo riassumo in questa, in questa tabella, se volete, quindi, attenzione, in generale, se ho meno a con esponente dispari, chiamiamolo d, questo è uguale a meno, a alla d, dove t sta per dispari, se invece ho, meno a alla p, dove p sta per pari, questo è uguale a più, a alla p, cioè che qui ci sia meno, più, dentro la parentesi, è indifferente, non è indifferente, se l'esponente è fuori, se ho meno, alla p, questo rimane, questo resta se è fuori, il segno è indirilevante, solo se è dentro la parentesi, proviamo un altro esercizio, volevo proporvi il 436, stessa pagina, che dice, tonda, meno 4 quinti, alla meno 11, per 4 quinti, alla 18, per 5 quarti, alla quinta, ok, qui anche abbiamo, il segno meno, dentro la parentesi, ok, questo però, l'esponente è dispari, per cui, il meno, può essere portato fuori, della parentesi, quindi viene meno, 4 quinti, alla meno 11, attenzione, il meno dell'esponente, rimane, per, 4 quinti, alla diciottesima, qui, la base, è inversa, alla precedente, qui ho 5 quarti, qui ho 4 quinti, quindi, qui possiamo, utilizzare il fatto che, se ho, una frazione, in questo caso, 5 quarti, alla quinta, se non sbaglio, sì, questa è identica a dire, 4 quinti, cioè, inverto numeratore denominatore, cambio segno dell'esponente, ricordate, c'era la proprietà, a fratto b, alla meno n, è uguale a b, fratto a, alla n, questo posso usarla, in entrambi i sensi, quindi, questo, fattore, questa potenza, possiamo scriverla come, 4 quinti, alla meno 5, ok, per cui, qui, fatemi copiare, dove eravamo arrivati, che era questo, un taglia, lo scriviamo qua sotto, ecco, qui, questo non mi interessa più, aggiungiamo un per, 4 quinti, alla meno 5, quindi, in totale, avremo, sempre il meno davanti, la base, che è 4 quinti, e l'esponente, che sarà, meno 11, più 18, meno 5, ci sono tutti gli esponenti, con il loro segno, mi rimane, meno, 4 quinti, alla, meno 18, scusate, scusate, meno 11, più 18, che fa 7, meno 5, che fa 2, per cui, questo mi dà, meno, 4 a seconda, che fa 8, fratto 5 a seconda, che fa 25, adesso, 8, 16, abbiate un attimo di pazienza, 16, venticinquesimi, o il meno davanti, ok, questa è un'altra proprietà importante, da ricordare, se cambio segno all'esponente, inverto numeratore e denominatore, attenzione, qui il segno rimane uguale, nella base, non viene cambiato il segno, invertire numeratore e denominatore, cambia il segno, ma dell'esponente, non della base, quindi se qui ho, facciamo ancora un esempio, se qui avessi, che ne so, meno, 4 quinti alla quinta, questo diventerebbe, meno, 5 quarti alla meno 5, il segno rimane uguale, nella base, cambia il segno dell'esponente, se inverto il numeratore e denominatore, attenzione a non fare confusione, qui c'è un'altra parte, dello stesso esercizio, la parte B, che è, tonda, meno, 3 ottavi alla meno 11, diviso, 8 terzi alla quattordicesima, per, meno, 3 ottavi alla meno 2, ora, qui abbiamo, le basi sono, 3 ottavi e 8 terzi, ok, qui possiamo ottenere, 3 ottavi dappertutto, per esempio, cambiando, il, la divisione, quel prodotto, questa parte, possiamo cambiarla, in, per, 3 ottavi alla quattordicesima, questo, gli esponenti, in quel caso, rimane identico, cambio, la divisione, in prodotto, ma l'esponente, rimane lo stesso, ok, questo è importante, il resto, lo copio, qui il meno, può andare fuori, della parentesi, quindi, ho, meno, 3 ottavi alla meno 11, per, 3 ottavi alla quattordicesima, per, qui, meno 2 è pari, quindi, questo meno, posso anche toglierlo, 3 ottavi alla meno 2, quindi, in totale, ottengo, il segno meno rimane, la base, sempre 3 ottavi, e la potenza, l'esponente sarà, meno 11, più 14, meno 2, quindi, otteniamo, meno 11, più 14, che fa, 3, meno 2, che fa 1, quindi, meno, 3 ottavi alla parentesi, posso anche non metterla, ok, ti è chiaro questo passaggio, attenzione perché, perché, se ho, a diviso una frazione, b fratto c, alla n, questo posso scriverla come, a diviso, b alla n, fratto c, alla n, ma questo posso cambiare, quindi, la divisione in moltiplicazione, quindi, a per, c alla n, fratto b alla n, e poi uso la proprietà delle potenze, inversa, quindi, per, c fratto b, alla n, ecco che, quando cambio, la divisione in moltiplicazione, non cambio il segno dell'esponente, inverto solo il numeratore e denominatore, cioè, se ho una grandezza, qualsiasi, se un'espressione, chiamiamola A grande, diviso una frazione, con la potenza, posso cambiare la divisione in moltiplicazione, cambiando, invertendo denominatore e numeratore, ma mantenendo lo stesso esponente, quindi, l'esponente rimane identico, cambio solo, l'ordine, cioè, il numeratore e il denominatore, cambiando, il diviso, in per, ok, questo è anche una tecnica utile, in diverse situazioni, proviamo a sto punto, a fare anche questo esercizio, questo qua, per esempio, il 438, a pagina sempre 113, e qui c'è la parte A, tonda meno 25 quarti, tutto, tonda chiusa la terza, per, tonda meno 5 mezzi alla seconda, diviso, quadra tonda, meno 2 quinti, chiusa, tonda alla meno 3, chiusa quadra alla seconda, ora qui conviene, vediamo che c'è, 25 quarti, che è una potenza di 5 mezzi, quindi mi conviene esprimere 25 quarti, come una potenza di 5 mezzi, quindi ricopio, tonda, anzi, questa tonda diventa una quadra, tonda, anzi, no, scusate, allora, qui, il meno posso portarlo fuori, e ho, il 25, è 5 alla seconda, 4 e 2 alla seconda, tutto di nuovo alla terza, per, meno, 5 mezzi alla seconda, diviso, qui abbiamo, i due esponenti, meno 3 e 2, si moltiplicano tra di loro, quindi ho, quindi ho, meno 2 quinti alla meno 6, ok, per cui avremo, meno, 5 mezzi alla seconda, e poi ancora alla terza, per questo meno, essendo l'esponente pari, lo cambio in più, diviene, 5 mezzi alla seconda, diviso, analogamente, qui ho, meno 2 quinti alla meno 6, meno 6 è pari, diventa 2 quinti alla meno 6, e, di conseguenza, alla fine avremo, il meno che rimane, 5 mezzi alla 2 per la 3, che fa 6, per, 5 mezzi alla seconda, diviso, qui ho, diviso 2 quinti, che cambiamo, in per, 5 mezzi, sempre alla meno 6, di conseguenza, avremo, meno, 5 mezzi alla, 6 più 2, meno 6, i 2, 6 e meno 6, si semplificano, fanno 0, quindi rimane, meno, 5 mezzi alla seconda, cioè, meno, 25 quarti, prof potrebbe tornare, un attimo su, certo, chemi dove, va bene qua, ok, ok, grazie, prego, se non ci sono domande, molto bene, molto bene, se non ci sono domande, passiamo, alla, la parte B, l'altra parte dell'esercizio, che era questa, meno, 7 ottavi, chiuso a tonda, alla decima, diviso, tonda, meno, 35 quarti, sempre, alla decima, ancora, diviso, tonda, 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 1 su 100, chiuso a tonda, alla quarta, allora, qui, il primo meno, possiamo eliminarlo, perché, l'esponente è pari, idem, il secondo, ok, quindi, possiamo scriverlo come, 7 ottavi, alla decima, diviso, 35 quarti, alla decima, ci possiamo cambiare in per, anziché 1 su 100, viene 100, alla quarta, ma 100, possiamo pensarlo come, 10 alla seconda, ok, e quindi, abbiamo che, dato che i due esponenti, qui sono entrambi 10, possiamo mettere insieme, queste due frazioni, scusate, ecco, e fare prima la divisione, e dopo la potenza, quindi scriviamo, 7 ottavi, diviso, 35 quarti, tutto, alla decima, per, 10 alla seconda, e ancora alla quarta, quindi avremo, qui cambiamo la divisione, in prodotto, 7 ottavi, per, 4 su 35, elevato alla 10, per, 10 alla 2 per 4, che fa 8, ok, qui possiamo semplificare, in croce, quindi abbiamo, questo 4, va via con l'8, qui rimane 2, il 7, va via con 35, qui rimane 5, quindi avremo, al numeratore 1, denominatore 10, diviso, 10 alla 10, per, 10 all'ottava, quindi, abbiamo, 10, possiamo, possiamo così, 1 fratto, 10 alla decima, per, 10 all'ottava, quindi, una frazione, dove il numeratore, è 10 alla 8, diviso, 10 alla, 10, e rimane, 1 fratto, 10 alla 2, quindi, un centesimo, quindi qui, vedete che, il denominatore, ha un esponente, più grande, qui, va via tutto, cioè, semplifico, dividiamo, qui va via tutto, che rimane 1, e qui, rimane 2, devo fare 10, meno 8, però, essendo più grande, come il denominatore, qui rimane 2, mentre qui rimane 10, alla 0, cioè 1, troppo, ma, essendo che, il numeratore, ha come esponente 8, il denominatore 10, non sarebbe, 10 alla meno 2, che è equivalente, possiamo anche pensarla così, certo, questo posso vederlo, come, 10 alla 8, meno 10, 10 alla meno 2, cioè, 1 fratto 10, alla seconda, cioè, 1 su 10 alla seconda, cioè, un centesimo, ma, perché l'esponente è uguale, se è meno 1 o più? prego, non ho capito, il motivo, dell'esponente, che è uguale, anche se, almeno, non è uguale, un conto è avere, 10 alla meno 2, ok, un conto è avere, 2, se, 10 alla meno 2, cioè, ripeto la regola, se ho una frazione, a fratto b, sempre 10 alla meno n, questo è, b fratto a, alla n, cioè, cambio il seno risponente, ma inverto il numeratore denominatore, quindi, questo cambia il seno, questa regola pure prima, per fare, certo, il penultimo passaggio, si inverto, un decimo all'ottava, perfetto, un decimo alla meno 10, esattamente, prof, ho consegnato, molto bene, anche ha consegnato, molto bene, continuiamo a fare, ancora esercizi, prendiamo per esempio, questo, l'esercizio, 4, 4, 7, a pagina 114, la pagina dopo, dice, parentesi, quadra, tonda, meno, 3 mezzi, chiusa tonda per tonda, meno, 3 mezzi, chiusa tonda alla quinta, chiusa quadra, diviso, tonda, meno, 3 mezzi, chiusa tonda alla quarta, meno, tonda, meno un mezzo, chiusa tonda alla seconda, più, continuo sotto, più, tonda, meno, 3 mezzi, chiusa tonda alla ottava, diviso quadra tonda meno tre mezzi chiusa tonda la seconda e chiusa quadra la terza ancora meno due qui allora nella prima parentesi quadra non abbiamo problemi perché c'è la base identica stesso segno stesso valore non facciamo altro che sommare gli esponenti gli abbiamo meno tre mezzi alla 5 più 1 che fa 6 poi abbiamo diviso qui rimane rimaniamo con meno tre mezzi alla quarta poi qui abbiamo meno questo meno rimane attenzione questo meno rimane perché è fuori della parentesi invece questo diventa più perché dentro la parentesi di meno un mezzo alla seconda fa un quarto ma rimane segno meno davanti perché quello era fuori della parentesi poi più di seguito continuo sotto tonda meno 38 33 mezzi usate all'ottava diviso prima avevamo meno tre mezzi alla seconda alla terza faccio il prodotto degli esponenti meno tre mezzi alla due per tre che fa 6 ancora meno 2 e qui anche qui abbiamo la stessa base meno tre mezzi meno tre mezzi una divisione faccio la differenza degli esponenti 6 meno 4 quindi otteniamo meno tre mezzi alla 6 meno 4 che fa 2 poi avevamo meno un quarto poi abbiamo anche qui meno tre mezzi all'ottava diviso meno tre mezzi alla seconda alla sesta diventa più tonda meno tre mezzi alla 8 meno 6 che fa 2 e poi ancora meno 2 qui le potenze bisogna svilupparle perché non ci sono regoli sulla somma delle potenze quindi abbiamo dalla prima viene più nove quarti perché il meno al quadrato diventa più poi o meno un quarto più di nuovo 9 quarti e ancora meno 2 allora qui posso mettere insieme per esempio le prime due per fare un po meno calcoli perché beh perché 9 meno 1 fa 8 poi il resto le coppia qui ho 8 quarti più 9 quarti meno 2 ma 8 quarti fa 2 quindi abbiamo 2 più 9 quarti meno 2 il primo 2 e l'ultimo meno 2 si semplificano e danno 0 quindi mi rimane più 9 quarti ok però può tornare un po sì per favore certo dimmi dove va bene lì ok vediamo se riusciamo a farne ancora una posso continuare posso continuare sì sì ok bene volevo proporvi anche questo esercizio 449 1 1 4 quadra tonda meno 1 terzo alla quarta per tonda meno 1 terzo alla quinta chiusa quadra diviso quadra tonda aperta meno 1 terzo chiusa tonda alla seconda chiusa quadra alla terza più l'idea di frazione l'idea di frazione l'idea di frazione 2 alla seconda tra parentesi elevato alla quarta diviso 2 alla settima e denominatore o 3 alla quindicesima diviso tonda 3 alla quarta e ancora allevato alla terza quindi nel primo caso la prima quadra ho le stesse basi quindi non faccio altro che sommare gli esponenti meno 1 terzo alla 4 più 5 che fa 9 diviso meno 1 terzo alla 2 per 3 che fa 6 e e poi nella seconda frazione abbiamo la potenza di potenza del 2 quindi qui abbiamo 2 alla 2 per 4 che fa 8 diviso 2 alla settima e poi sotto 3 alla quindicesima diviso 3 alla 3 per 4 che fa 12 qui sopra abbiamo anche lì meno 1 terzo alla 9 meno 6 che fa 3 più 2 alla 8 diviso 2 alla settima fa 2 3 alla quindicesima diviso 3 alla dodicesima fa 3 alla terza fare 15 meno 12 che fa 3 quindi qui abbiamo un terzo meno un terzo alla terza che fa meno un ventisettesimo poi ho più 2 fratto 3 alla terza fa 2 ventisettesimi quindi qui abbiamo lo stesso denominatore la cosa è facile qui rimane meno 1 più 2 che fa più 1 fratto 27 ok può tornare certo ancora su qui non ho fatto altro che applicare le proprietà delle potenze appunto si fa il prodotto degli esponenti in 2 alla quarta per 2 elevato alla quarta quindi 2 per 4 fa 8 2 all'ottava 2 all'ottava diviso 2 alla settima faccio 2 alla 8 meno 7 che fa 2 il denominatore è il denominatore 3 alla quindicesima diviso 3 al dodicesima e fa 3 alla 15 meno 12 che fa 3 quindi se non ci sono altre domande direi che oggi ci fermiamo qui be 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 be